Per carità, altra giornataccia, una domenica de merda onestamente direi, doppia sconfitta, perdiamo addirittura 2 a 0 noi altri, quando dicevo prima che gli avversari erano difficili, erano difficili, porca troia, erano difficili e l'abbiamo dimostrato in campo tutti quanti. Perde la Roma 2 a 0 addirittura, 2 a 0, benissimo, porca troia, prestazione, e adesso mi dite ma di prestazione bella, 3 partite fa avevo sentito quasi tutti i youtube, prestazione bella, ma noi invece avevo visto una prestazione davvero scadente, siamo altamente sulle gambe, si vede palesamente, scusate tu qui mi sono tagliato tutto per fare la barba come al solito, però come dicevo prima, pessimi oggi, sì abbiamo fatto qualcosa nel secondo tempo soprattutto, ma se la butti dentro è inutile, porca troia, anzi ringraziamo oggi il migliore in campo, in assoluto, Paolo Lopez che ha fatto davvero 3-4 interventi davvero clamorosi, se no il risultato finirà anche più ampio, porca troia, Klaivert che fa sempre la stessa cosa su ogni singola partita, ha sempre la singola ammunizione, a me ha rotto il cazzo onestamente, porca troia, per me rimarrà sempre un giocatorino da metà classifica onestamente, tutte queste sopravvalutazioni, tutti questi giocatori sopravvalutati, e adesso ne vengono fuori risultati, porca troia, altro che le scuse degli arbitri, quelli, quell'altro, quelli, quell'altro, oggi anzi l'arbitro è stato scadente da ambo le parti a mio avviso, ho visto davvero un arbitro scadente, sia a favore sia a sfavore, davvero uno schifo di arbitro onestamente, però, siamo altamente rimaneggiati e sulle gambe, si vede evidenti, è evidentissimo, è sta rosa soprattutto grazie agli infortuni, è falcidiata proprio corta, siamo cortissimi, basta vedere Edin che non tiene una palla, non strisce una palla, un fantiro in porta, viene sempre anticipato, e che quando non hai un attaccante recente, questo è il risultato, purtroppo. Kalinic, Kalinic è un altro infortunato, ma tanto anche se c'era onestamente, per me non cambiava quasi niente, anzi, per carità, una marea di occasioni, per carità, perché non è tifoso della Roma, oggi è stata una bellissima partita, ma per me invece è stato un supplizio, porca troia, mi sono sagnato tutte le azioni, ma è inutile a rilencarle tutte, tanto ce n'è stata una marea, i gol dei sprocati, ha segnato, purtroppo ha segnato, vabbè, manco ho visto il giro a zema, pare, lo sesco, Cornelius, non lo so, vabbè. Comunque, migliori in campo, Paolo Lopez, veri tu e Smolling, sicuramente, soprattutto Paolo Lopez, per me migliori in campo in assoluto, come detto prima, uno dei migliori, ha fatto 3-4 parati davvero clamorosi, se no oggi potrà finire anche più clamoroso. peggiori parecchi, Zeco, Mancini, Clolarov, Clivert, ci metto anche Zagnolo, perché onestamente si fa le solite sfolate, ma se non ottengo i risultati, non fai gol, niente, è inutile a fare tutte le sfolate, onestamente. E per me, il migliori in assoluto, Kolarov, mamma mia ragazza, ha fatto un cross nel primo tempo, da mani nei capelli, e per me, lui e Fazio, se vanno via, onestamente ne sento tantissimo la mancanza, ringrazio per quello che hanno fatto, ma è giunta l'ora di le cambiare, onestamente, perché non hanno più da Roma, si vede che hanno proprio sfiniti e strafiniti, tutti e due. Mancini oggi in una marea di errori, falli, sopra falli, incredibilmente, prestazione insufficiente a dir poco, e anche Klaivet, per i motivi detti prima, che fa sempre il solito falletto da deficiente, se tiene mai risultati, onestamente. Bere tu, grandissima prestazione, invece ha fatto altre folatissime, proprio delle sue, era in difesa, centrocampo, un attacco, era per tutto, dopo un popolaccio, dopo un popoletto, non è che poi fa 90 minuti di corso sempre, e comunque è evidente che la rosa della Roma, non i titolari, non è in granché, dicevo, le ha un genio per capirlo, onestamente, e niente, adesso, altra sconfitta, ma cominciamo il periodo delle sconfitte, vaffanculo, ci avevamo fatto il cosa con le vittorie, ma tanto si sa che il calcio è così, quindi, era tutto un preventivo, il sapevo già quando avevamo fatto quel video, su conosciamo i nostri avversari, era evidentissimo, come avevo detto prima, siamo proprio al tracollo fisicamente, si vede che quegli altri vanno il triplo di noi altri, onestamente, adesso venite mai di quello che vi pare, intanto però il Palma ha vinto 2 a 0, e non è che ci potremmo appallare sempre tra l'albitro, se per l'emato qui, quindi, ah, poi, un'altra bellissima notizia, si è infortunato un'altra volta Spinazzola, e io mi faria una domanda, del perché la Juve l'ha lasciato, perché la Juve non è che te lascia i giocatori così, come niente, te lascia solo i scarti, e infatti, per qualità, quando gioca, niente da dire, è davvero ottimo, infatti preferisco le gran lunghe a Kolarov, però hanno troppi infortuni, quindi, non si sta rivelando un grandissimo coso, da rendimento top, onestamente, ho perso la voce, che avverrà oggi schiassamenti totali, e niente, davvero pessimo, onestamente, e niente, sono cazzato come una bestia, doppia sconfitta, come al solito, e niente, adesso c'è Juve Milan, da semplici spettatori, tanto ormai ci ha superato anche la Lazio, anche il Cagliari, e anche l'Atalanta, quanto vedo, con l'Atalanta siamo a pari punti, e quando la Roma, quando la fa il salto delle qualità, per bene, non lo fa mai, purtroppo conosco i miei pulli, e conosco bene, e tanti che dicono, oh, ci prenderemo la, la qualificazione a Istanbul, sì, costa Roma, a posto io dicevo, quando tutti esaltasse questo, quell'altro, poi vabbè, arrivano queste sconfitte, c'è poi quale esaltasse, onestamente, sconfitta proprio brutta, meritata dal Palma, ampiamente, anzi, ringraziamo Paolo Lopez oggi, e c'è ben poco la D, Palma davvero ottima squadra, molto quadrata, che sa soffrire nei momenti giusti, e ripartire nei momenti giusti, e niente, tra l'altro, gli sei infortunato anche Gervinio, intanto ha vinto, pensa te, e niente, questo è tutto, appuntamento alla prossima, speriamo che si ritorna a vincere, perché già mi sono stufato, le ho commentato sconfitte, onestamente, e niente, appuntamento alla prossima, sempre Forza Roma, e sempre Forza Roma, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,